il freelance lab non ha bisogno di presentazioni è quello che mancava ciò di cui sentivi davvero il bisogno e che non riuscivi a trovare da nessuna parte ma ora fortunatamente c'è il freelance lab è il primo percorso di mentoring in italia per aspiranti traduttori e interpreti freelance vuol dire che ti accompagno nella strada per mettere le basi della tua attività da libero professionista cercherò di insegnarti tutto ciò che devi sapere prima di aprire partita iva e tutto ciò che non ti insegnano all'università non è un corso di traduzione né di interpretariato non ci saranno lezioni di lingua ma ci saranno degli spunti per capire cosa si cela dietro alle quinte di un'attività da freelance al freelance lab troverai sempre un abbraccio caldo quando ne avrai bisogno e una piccola spinta quando non trovavi proprio il coraggio per fare quel salto